Siamo alla fine di questo evento. La presentazione, ricordiamolo, BTO 2020, tanti temi trattati, soprattutto ovviamente un occhio di riguardo per quel che tratta la tecnologia. Ecco, mi è piaciuta una domanda all'interno della conferenza stampa, un po' lo sviluppo, volevo un approfondimento da lei su questo. Il terrore di quello che era il mondo digitale dal 2009, si è presa questa data indicativa, ad oggi per quel che riguarda il mondo del lavoro, soprattutto il mondo del turismo. Come sono cambiate le cose? Spieghiamolo un po' ai nostri ascoltatori e telespettatori, visto che siamo sia una web radio che una web tv. Beh, sono cambiate in tanti aspetti. La digitalizzazione ha portato a far sì che cambiassero i progetti interni di produzione, di trasformazione, di conoscenza all'interno di un'azienda. E in più ha portato tutto quello che è l'aspetto dell'online, quindi della vetrina sul mondo, e ha fatto sì che tu avessi una capacità di comunicazione moltiplicata all'infinito. Quindi se non imparavi gli strumenti per gestire tutti quelli che erano i nuovi strumenti per gestire la tua azienda sia all'interno che verso l'esterno, rimanevi indietro. E devo dire che su questo tutti quelli che sono state le esperienze, anche la BTO di formazione dell'impresa, ha fatto sì che potessimo essere competitivi. Ma tanto ancora va fatto. Parlando un po' del mondo del lavoro dei giovani, si è detto che bisogna fare entrare questa fetta di ragazzi perché porta davvero un'innovazione sul campo tecnologico, generazionale. Sicuramente sì, è cambiato il modello economico e ci sono delle generazioni che conoscono degli strumenti che altre generazioni non conoscono. Proprio perché ci nascono. Oggi vediamo un bambino che prende un giornale e cerca di muovere la fotografia per ingrandirla e restringerla. Sono nati con quelle tecnologie. Se non immettiamo queste forze lavoro che sono nate con questo tipo di strumenti e le portiamo in azienda, noi perdiamo una competizione globale perché gli altri paesi li hanno. C'è una capacità di attrarre giovani nelle aziende e negli altri paesi che purtroppo noi non abbiamo. Abbiamo una forza lavoro molto grande come età che deve essere quella che porta l'esperienza del prodotto, l'esperienza della grande storia, del grande storytelling della propria impresa, ma deve essere affiancata da tutta una componente di personale giovane che ha delle competenze che gli altri non avranno mai e che se non le immettiamo velocemente anche nel mondo del lavoro, veramente avremo delle grossissime difficoltà nella competizione globale. Infatti, quanto siamo competitivi nel nostro mondo del lavoro in Italia, dei ragazzi giovani con modello europeo? Mi viene in mente la Germania che ha questa formazione stage on the job. Sì, se si pensa che noi abbiamo il 40% dei giovani che sono disoccupati, ci rendiamo conto di qual è il dramma del nostro paese. E' un dramma che non subiscono solo loro, subiscono anche le imprese. Se non creiamo immediatamente un modello di avvicinamento e di selezione della forza lavoro, quindi accompagnarla all'ingresso all'impresa, ci troveremo in grossa difficoltà. Purtroppo vedo che ogni volta che si lancia un progetto spesso si torna indietro sotto questo aspetto perché l'integrazione fra azienda e giovane che si inserisce al mondo del lavoro è sempre troppo difficile. Concludiamo con qualche consiglio, visto che facciamo informazione sui ragazzi che vogliono approcciare il mondo dell'innovazione e della tecnologia applicato al turismo, all'hotellerie. Loro devono usare il loro vantaggio competitivo che è quello di portare appunto questo know-how di tecnologie ma se non imparano velocemente e quindi non si mettono a fianco di persone che conoscono il prodotto, io penso alla ristorazione, sono venuti tantissimi social media manager a spiegarmi come dovevo comunicare ma se non gli facevo giorni di corso io di quello che era l'azienda, di quello che era la ricerca che avevo compiuto negli anni da raccontare, non avevo formato io il mio storytelling, difficilmente si riusciva a entrare in sintonia per comunicare. Comunque tradizione e innovazione si devono poi un po' unire. È il segreto del nostro paese, il nostro paese viene da una cultura che nessun altro ha. Se a questa cultura riesce ad aggiungere la capacità, negli altri paesi viene distrutto una cosa per costruirla una nuova. Se noi siamo capaci di modificare quel gigantesco patrimonio che abbiamo inserendoci quelle che sono le grandi competenze del futuro nessuno ci potrà fermare e avremo un vantaggio competitivo che nessun altro ha. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.